Ciao a tutti ragazzi, questo è il video tag sulle 100 domande, ormai l'hanno fatto praticamente tutti ma io arrivo per ultima perché il mio canale è relativamente recente. Sono domande potte risposta e in questo modo possiamo conoscerci ancora un po' meglio. Poi se mi volete fare delle domande più specifiche magari lasciatemi un commento e nei prossimi giorni potrò organizzare un altro Ask Tati. Partiamo subito. Allora, prima domanda, nome Tatiana. Soprannome Tati e quando ero più piccola Tatina. Il numero di candeline sull'ultima torta di compleanno è 27. Data in cui spegni quelle candeline è 4 di settembre. Segni particolari, occhiali e treccine, questo è una stessa segna particolare. Poi, luogo di nascita Carrara, altezza, direi più bassezza, 1,63 m. Poi, colore degli occhi, marrone scuro. Colore dei capelli, neri. Numero di scarpe, 38-39, ultimamente più 38 però. Poi, occhiali sì. Ai piercing ho gli orecchini, porto gli orecchini. Avevo anche il secondo buco ma praticamente mi si è chiuso perché ho smesso di portarli. Poi, tatuaggi no, per il momento no, ma da un paio d'anni vorrei farmene uno, anche se non ho ancora trovato il coraggio perché ho porre del dolore. E vorrei farmi su una spalla una farfalla con la scritta Be the best of whatever you are, che è una frase che mi è sempre detta in un momento molto particolare e quindi per me molto significativa. Poi, animali domestici sì. Ho un cane che ha quasi 5 anni, l'ho preso due anni fa al canile, si chiama Sagro. E poi ho una vecchissima gatta che si chiama Peluche, che ho adottato dalla sua vecchia padrona ormai 13 anni fa, quasi 14, e quando lei non ha più potuto tenerla. Poi, ancora avanti, domanda 15. Ti piace il tuo lavoro? Diciamo che sto cercando di costruire il mio lavoro, anche se non è molto facile, ci sono migliori di difficoltà, però quello che faccio da un anno e mezzo a questa parte, sì, mi piace molto. Poi, ti sei mai ubriacato? No, perché io praticamente non posso neanche toccare due dita ad alcol che subito mi sento male, non lo rego, non lo tollerò e quindi no. Poi, ancora avanti, 17. Ti sei mai innamorata? Sì, certo. Hai mai nato qualcuno al punto di piangere? Sì, sono molto sensibile, quindi sì, e soprattutto più volte non sono stata corrisposta, quindi mi è capitato di piangere, di stare male. Ancora avanti. Hai mai avuto incidenti in macchina? No. Allora, io diciamo che ho la patente, ma è come se non ce l'avessi, perché non so guidare e non ho avuto fortunatamente incidenti anche stando con qualcun altro, tranne un piccolo tamponamento e guidava mia mamma un po' di anni fa. Poi, hai mai avuto incidenti in moto? Neanche. Sono stata al massimo in motorino con mia cugina un paio di volte e fortunatamente non ci sono stati incidenti. Ancora avanti. Vino rosso e vino bianco? Come dicevo, sono a Sdenia, quindi nessuno dei due. Coca-Cola o Pepsi? Assolutamente Coca-Cola zero. Sempre e comunque, è la mia droga, le bevo tantissimo. Poi, lemon soda oran soda? Assolutamente lemon soda. Io adoro le bibite al limone, quindi dall'estate, che è il mio tè preferito, alla lemon soda, altre limonate anche di altre marche. Mi piace tantissimo. Poi, caffè normano macchiato? Beh, direi tutti e due, ma forse è un po' più quello macchiato. Caffè zuccherato o amaro? Nessuno dei due. Io uso un dolcificante che si chiama Tic da qualche anno e ora mi sono abituata a quel sapore, quindi mi piace solo quello. Poi, zucchero normano di canna? Anche in questo caso nessuno dei due, però se proprio sono obbligata, zucchero normano. Poi, coperto più buone è più buone, perché sono freddolosissime e voglio qualcosa che, soprattutto d'inverno, mi riscaldi molto. Poi, lasciare o essere lasciati? Beh, direi essere lasciati, sono entrambe due brutte condizioni, però mi dà più fastidio l'idea di far soffrire qualcuno per una mia scelta, quindi preferirei essere lasciata. Poi, colore dei calzini, in questo momento sono bianchi e rosa. Numero favorito? Beh, da piccola mi piaceva il numero tre e anche un po' il numero quattro perché era il mio giorno di nascita. Adesso però non ho un numero favorito. Poi, film preferito? Troppi, però diciamo, se devo fare proprio una cernita strettissima, direi Non ti muovere, La vita è bella, Canone Inverso. E poi tre film di Tim Teastwood che sono Million Dollar Baby, I Ponti di Madison County e Gran Torino. Poi, citazione? La mia citazione per verità è Protinus Vive, cioè Vivi Adesso di Seneca, la trovo molto evocativa, mi piace tanto. Poi, computer o Playstation? Assolutamente computer, anche se da piccola negli anni 90 mi sono fatta delle bellissime partite a Basta Groove con la mia Playstation 1, viva gli anni 90. Poi, giorno della settimana, quando andavo a scuola, il mio preferito era il sabato perché aspettavo la domenica e come dice il buon Leopardi, meglio il giorno dell'attesa, insomma, della festa vera e propria. Adesso non ho il giorno preferito, però detestavo e detesto ancora la domenica. Poi, canzone preferita attuale? Canticchio spesso, ultimamente ammazzo al tempo provando con l'automeditazione e canto un po'. Mi piace molto, la trovo molto carina, molto spassosa e mi mette di buon rumore. Poi, canzone favorita invece in assoluto? Direi Quando sarò capace di amare di Giorgio Gaber che secondo me è la canzone d'amore per eccellenza e poi Un senso di Vasco Rossi. Andiamo ancora avanti. Programma preferito? Direi che è tempo che fa perché è uno dei pochi programmi in cui ci sono ospiti veramente di rilievo e si ride, ci si diverte, è molto interessante insomma. Poi, telefilm preferito? Anche qui tantissimi, se devo proprio restringere, direi Friends, Grace Anatomy e Lost. Ancora avanti, cartone preferito? Allora, dei cartoni giapponesi, ovvero quelli della mia infanzia, quindi se l'ormone lo sa, no? E invece dei Disney? Direi Aladdin, Mulan, Hercules e poi Re Leone 1 e 2. Poi, è mai notato nudo? No, perché direi che potrei traumatizzare le persone, quindi preferiscono farlo. Poi, cocktail preferito? Non ho un cocktail preferito, però sicuramente è un alcolico e magari qualcosa che sappia di ace oppure che sappia di mente, mi piace molto la mente. Poi, sogno o son destro? Direi assolutamente sogno, perché se non potessimo sognare, mamma mia, almeno i sogni. Poi, ancora sport praticati? Allora, più di tutti la pallavolo, ho fatto per un po' di anni, nonostante io sia un tappo. Poi, un po' di moto, mi piace tanto, ancora faccio moto libero ogni tanto. Poi, ho provato basket e anche tennis, ma con scarsi risultati e poi da piccola a piccola un po' di danza. Poi, sport preferito da vedere dal vivo? Direi la pallavolo, anche se non ho mai assistito in realtà ad un incontro, diciamo, di grande livello, ma al massimo degli incontri così provinciali o tra amici. E sport preferito da vedere dal vivo? Sempre la pallavolo. Io seguo soprattutto la pallavolo maschile nelle competizioni nazionali, europei, mondiali, eccetera. Poi, pasto o pizza? Beh, assolutamente pizza. Per me è rinunciabile, una volta alla settimana ci deve essere. La pasta l'ho praticamente un po' tolta dalla mia dieta, però mi piace molto quella panna e prosciutto, oppure salmone, panna o anche quelle quattro formaggi, tutta robetta leggera, insomma. Poi, come ti vedi da qui a dieci anni? Non ho un'idea precisa. Fino a poco tempo fa l'ho detto forse sposata e con due o tre figli. Adesso non lo so, spero solo di aver trovato un po' più di serenità. Poi, cosa fai quando ti senti giù? Allora, quando mi sento giù, canto. Oppure mi riguardo delle dispezioni delle mie serie preferite, oppure qualcosa di veramente brutto, perché forse per un meccanismo di psicologia inversa arrivo a pensare, vedi, non c'è mai limite al peggio, e questo stranamente mi tira su di morale. Poi, ancora avanti, parolaccia che dici più spesso? Diciamo che fuori da YouTube, quindi alla mia vita reale, sono un po' una camionista, ne dico tante, ma forse quella che uso di più è... cazzo, forse sì. Poi, frase che dici più spesso? Non dico una frase più spesso, però uso magari dei termini molto spesso. Mi piace dire pseudo e lo affianco agli aggettivi. Spesso dico questa cosa è pseudo inquietante, anche se non vuol dire niente, però mi piace. E poi dico spesso esilarante, mi prendono anche in giro per questo, perché è un aggettivo che uso molto. Poi, ancora, cosa odi? Beh, la presunzione, il populismo e la pittiera gratuita. Poi, chi non sopporti? Troppa gente, sono un po' misantropa, però, diciamo, in TV quello che mi fa proprio cambiare canale al volo è Pavo del Debio, lo trovo falsissimo e non lo sopporto. Poi, qual è la cosa più bella che esiste? Direi la gioia di aver fatto qualcosa di giusto, o per se stesso o per gli altri, penso sia la cosa più bella che c'è a noi. Poi, ancora, a che ora vai a dormire? Tardissimo, perché io soffro di insonnia, quindi mi capita anche di arrivare purtroppo alle 6 alle 7 del mattino. Destorso mancino? Destorso. Segno zodiacale virgine. Punto debole? Direi la mia eccessiva sensibilità, che mi fa soffrire molto spesso. Poi, ricordo più brutto? O un brutto che mi ha colpito più di 4 anni fa? Ricordo più bello? Direi un primo bacio. Non il primo, ma quello dato, diciamo, anche se non ho fatto attualmente, che è come se fosse stato il primo. La miglior qualità? Penso di essere una persona molto buona, anche se questo è il suo pro e il suo conto, però credo sia una qualità. Il peggior difetto? Sono molto permalosa e me la prendo molto facilmente, soprattutto quando mi viene fatto qualcosa dalle persone a cui tengo di più. Poi, qualità che ti riconoscono? Direi l'intelligenza, ed è una cosa che mi fa molto piacere. Difetto che ti attribuiscono non l'eccessiva razionalità, non faccio fatica a lasciarmi andare e a vivermi i momenti. Ancora, di cosa hai paura? Ho paura di morire senza essermi realizzata completamente, quindi non della morte in sé per sé, ma di non aver lasciato un segno, ecco. Poi, un obiettivo? Trovare la serenità, perché senza cosa, secondo me, è inutile formalizzare la propria mente altri obiettivi. Poi, il tuo primo pensiero la mattina? Mi sveglio, carburo molto lentamente, e poi penso, cosa devo fare oggi? Poi, l'ultimo pensiero di andare a letto è ti prego il sonno, raggiungimi, perché devo assolutamente dormire, sono già le 5, le 6, le 7, è troppo tardi. Poi, la prima cosa che guardo in una persona del sesso opposto, lo sguardo e il modo di parlare, che sono le cose che mi coinvolgono in assoluto, molto più ad esempio dell'aspetto esteriore. Poi, la qualità che cerchi in una persona del sesso opposto, direi, è una grande comprensione, la capacità di sapersi mettere nei miei panni, la pazienza, perché sono una persona dal carattere abbastanza difficile. Sai cantare? Ci trovo, mi piace molto. Credi in te stesso? No, assolutamente no. Pensi di essere attraente? Direi che non credo in me stesso, quindi no. Vai d'accordo con i tuoi genitori? Beh, diciamo che ho avuto e ho alti e bassi, però fondamentalmente sì. Sogno uno strumento? Ho studiato un po' piano forte, ma ho rimosso tutto, perché è passato troppo tempo. A che età il primo bacio? Tardi. A che età la prima volta? Ancora più tardi. Diciamo lei, dopo i 20, anche se è molto raro il giorno d'oggi. Poi, nome preferito? Diciamo che cambio di continuo, però uno dei nomi che mi piacciono attualmente è Maya, lo trovo molto carino. Nome che odi? Non c'è un nome particolare, però non amo nomi composti oppure doppi nomi. Secondo me una persona deve avere un nome solo, infatti sono un po' contro gli americani che di solito danno due nomi, o almeno, ai loro figli. Poi, meglio tentare ma puoi pentirsi o non tentare di piangere? Beh, tentare ma puoi pentirsi, anche se io sono una persona non molto coraggiosa e quindi tento poco, ecco, è una cosa su cui sto lavorando però. Ancora, credi nel destino? Beh sì, sì, ci credo molto. Credi in Dio? Sì, anche se a modo mio. Sanglio freddo, caldo? Freddo e caldo, dipende dalle situazioni. inverno-estate, sicuramente estate, sono figlia di una donna brasiliana, quindi estate, vorrei 365 giorni d'estate. Poi, mare e montagna, mare tutta la vita, la montagna per me non dovrebbe nemmeno esistere. Poi, se chiedere scusa, ho delle grandi difficoltà in questo, è un'altra cosa su cui sto lavorando, perché tento a pensare di aver sempre ragione, o quasi, e quindi difficilmente chiedo scusa, mi è capitato raramente. Ancora, sei permalosa? Sì, come ho già detto, sono molto permalosa. Cosa cambieresti di te? Beh, cambierei sicuramente il aspetto fisico, che non mi piace molto, e poi vorrei essere molto più forte a affrontare le situazioni, senza deprimermi in maniera troppo semplice, insomma. Poi, hai mai rubato? Sì, la piccola, avevo rubato forse una gomma, se non qualcosa, una mia compagnia di classe, e poi anche in un negozio, ma mia mamma tutte e due le volte mi ha scoperto, e mi ha fatto riportare indietro la cosa, con la mia figura di merda, ma è giusto così. Poi, ami il rischio? No, non particolarmente. Sai stare da sola? Sì, so stare molto bene da sola, anzi, è una cosa che a volte vado anche a ricercare, mi piace, ogni tanto devo stare con me stessa e raccogliere le idee. Sei felice? Beh, al momento no, ma anche qui lavoro in corso. Vuoi avere figli? Diciamo, fino a pochissimo tempo fa, invece sicuramente sì, ne voglio due, tre, tanti. Adesso sono un po' titubante, perché ho nuove consapevolezze che mi fanno pensare che non so se sarei proprio la persona giusta, insomma, per crescere un bambino. Ci vuole molta responsabilità, secondo me, però vedremo, c'è ancora qualche anno, credo, per pensarci. Poi, matrimonio, convivenza? Adesso dico assolutamente convivenza, almeno per un po'. Essere o apparire? Sicuramente essere, sempre e comunque, malgrado i propri difetti, ma essere. Poi, la bella o la bestia? La bestia. Io sono sempre per i cattivi, anche perché secondo me sono più interessanti, hanno più dati da mostrare la bella, i buoni in generale, che noiano. Bestia. Poi, sai abbassare la testa? Tendenzialmente no, porto avanti le mie idee in maniera abbastanza forte, quindi no. Poi, le emozioni che più ti tocca? Sono molto emotiva, ma generalmente la malinconia, anche se è un'emozione un po' negativa, però sono molto malinconica caratterialmente. Cosa non faresti mai? Direi scalare la montagna, per la gioia del mio povero ragazzo, che adora la montagna, scalare, fare passeggiate, ma va sempre da solo, perché non fa per me. Poi, ho i tre desideri al genere della lampada, diciamo, vorrei una vincita che mi garantisse l'indipendenza economica, e poi la serenità mia, e delle persone che amo di più per stare il più tempo possibile con lui. E in ultima, ti sei rotto le palle di rispondere a queste domande? No, alla fine mi ho fatto abbastanza presto, e non sono particolarmente invasive, quindi direi di no. E niente, il video taglio si conclude qui, io vi lascio un'altra site in infobox, il link alla mia pagina Facebook, se questo video è piaciuto, mettete il vostro mi piace, io vi mando un bacio, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!